Dal Vangelo di Giovanni In quel tempo Gesù disse Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre Io e il Padre siamo una cosa sola Fratelli e sorelle la buona novella in questa domenica denominata del Buon Pastore vi raggiunge da un luogo in cui appunto ci sono le pecore perché Gesù paragona se stesso al Pastore Bello e paragona ciascuno di noi alle sue pecore Noi gli apparteniamo Noi siamo il suo gregge Lui è la nostra guida Lui ci conosce Noi dobbiamo ascoltarlo e lo dobbiamo seguire in modo tale che Lui possa donarci la vita dell'Eterno e possa proteggerci senza che nessuno possa mai strapparci dalle sue mani Quando Gesù pronunciò le parole che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni si trovava nel portico di Salomone vicino al Tempio di Gerusalemme In quel luogo i rabbini spiegavano la Torah la parola di Dio ai loro discepoli e rispondevano alle loro domande soprattutto di carattere legale Anche Gesù come il Buon Pastore vuole che noi ascoltiamo la sua voce ma ci presenta se stesso come un pastore completamente diverso dai pastori a cui il popolo era abituato così come ci presenta se stesso come un re diverso da tutti i re a cui i popoli antichi erano abituati Per questo approfitta della occasione in cui si trovava lì vicino al Tempio che era la festa della dedicazione del Tempio avvenuta nel 165 avanti Cristo quando Giuda Maccabbeo riconsacrò il Tempio a Yahweh dopo che era stato oggetto di depretazione e di divisione da parte dei re seleucidi che lui aveva sconfitto in quell'occasione l'altare fu riconsacrato e per otto giorni consecutivi l'olio santo brillò nella lampada a nove bracci che il popolo degli ebrei conserva ancora oggi in quel tempo a dire il vero avvenne anche un grande miracolo perché l'olio della lampada bastava per un solo giorno miracolosamente durò per gli otto giorni ancora oggi a Gerusalemme la luce della lampada a nove bracci brilla ancora e con questa luce tutte le luci di Gerusalemme perché davvero il popolo alla luce di Dio possa trovare la strada sulla quale camminare i popoli antichi, i regni antichi erano i regni delle belve come ci ricorda il profeta Daniele nel settimo capitolo del suo libro vinceva sempre il più forte così al regno del leone seguì il regno dell'orzo e al regno dell'orzo il regno del leopardo e al regno del reopardo il regno di una belva così feroce che nessuno poteva descrivere e nessuno poteva chiamare in questi regni l'uomo non valeva nulla il profeta Amos ci disse che il profeta che scusate che l'uomo valeva come un paio di sandali Gesù stesso nel suo parlare disse che a volte per le persone che ragionano con la mentalità antica l'uomo vale meno di una pecora invece davanti a Gesù l'uomo è un capolavoro ha una dignità immensa è l'immagine e la somiglianza di Dio l'uomo è colui che ha ricevuto da Gesù la vita dell'Eterno perciò dobbiamo ascoltare la sua voce ascoltare nella Sacra Scrittura è un verbo importantissimo nel Vecchio Testamento è ripetuto ben 1165 volte solo nel libro del Deuteronomio quello nel quale c'è il cosiddetto Shema Israel cioè Ascolta Israele è ripetuto per più di cento volte e gli ebrei ogni giorno tre volte al giorno ripetono questa parola del Signore Ascolta Israele il Signore è il tuo Dio il Signore è uno solo nel Nuovo Testamento questo verbo è ripetuto 430 volte nel Vangelo 200 volte è davvero importante ma l'ascolto è diverso dall'udire noi possiamo udire mille parole e non conservarne nessuna possiamo ascoltare una sola parola e cambiare la nostra vita questo vale dal punto di vista umano nell'amicizia e soprattutto nell'amore vale anche dal punto di vista spirituale tanti santi si sono convertiti ascoltando una sola parola di Gesù una sola parola del Vangelo o della Sacra Scrittura mentre invece noi forse abbiamo letto più volte l'intera Bibbia certamente centinaia di volte il Vangelo eppure continuiamo a vivere come se non avessimo letto queste parole come se non avessimo udito la parola del Signore c'è una beatitudine che dice beati i puri di cuore perché vedranno Dio ma che noi possiamo riesprimere beati coloro che ascoltano la parola di Dio che la ascoltano dal più profondo del loro cuore perché come Dio disse a Mosè sul monte tu non hai veduto nessuna figura tu hai udito solo una voce ma sappiamo dall'esperienza umana che la voce è come le impronte digitali la voce è diversa l'una dall'altra e come il bambino riconosce la voce della sua mamma come l'innamorato riconosce la voce dell'innamorata e viceversa così noi dobbiamo riconoscere la voce di Gesù il nostro pastore bello allo stesso modo in cui lui conosce la nostra voce e ci viene vicino e ci chiama per nome perché agli dei dell'antichità nulla importava degli uomini Zeus, Giove non parlava con gli uomini e a nulla era interessato della storia degli uomini invece il nostro Dio è il Dio di Abramo il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe è il Dio che ci chiama per nome è il Dio che ci conosce nell'intimo è il Dio che fa storia con noi che fa alleanza con noi per questo all'ascolto della parola c'è bisogno anche della sequela non basta semplicemente ascoltare la parola occorre seguire la parola del maestro la parola del pastore dopo averlo riconosciuto del resto nella Bibbia il verbo conoscere come tante volte ci siamo detti in questo nostro dialogo il verbo conoscere ha a che fare con la relazione ha a che fare con l'intimità coniugale ha a che fare con l'amicizia non è una semplice conoscenza intellettuale non è un semplice conoscere i dati di qualcuno nome, cognome, indirizzo e professione questo va bene per la carta d'identità non va bene nella conoscenza di cui parla Gesù non va bene in questa alleanza d'amore e del resto la sequela che Gesù ci chiede di avere dietro di lui è una sequela verso il suo obiettivo verso l'orizzonte che è quello del dono totale di sé del dono totale della vita perché chi vuole trattenere la vita la perde chi decide di perdere la sua vita fidandosi di Gesù la ritrova e proprio sulla fiducia è improntato il nostro rapporto con Gesù anche i leoni e le tigri dentro la gabbia sono vicine al domatore ma perché lui ha la frusta in mano e le obbliga ad ubbidire fra me, fra noi e Gesù non è così Gesù ci invita Gesù ci fa una proposta liberamente la dobbiamo accogliere del resto dopo i tre verbi che indicano ciò che noi dobbiamo fare ascoltare, conoscere, seguire ci sono tre verbi che ci dicono cosa fa lui per noi ci offre la vita dell'Eterno ci protegge in modo tale che nessuno di noi possa morire e ci protegge in modo tale che nessuno possa rapirci dalle mani del Padre dalle sue mani ci offre la vita dell'Eterno anche qui una differenza abissale con le antiche religioni con le religioni pagane gli dèi pagani erano gelosi della loro condizione e in nessun modo volevano donarla agli uomini quando Prometeo volle portare sulla terra il fuoco gli dèi lo punirono lo legarono ad una pietra e un corvo gli rodeva ogni giorno il fegato che miracolosamente ricresceva e veniva nuovamente mangiato dai corvi invece Gesù ci dà la sua stessa vita ci dà la vita eterna non una cosa che arriverà domani ma oggi Gesù ci dà la vita dell'Eterno la vita di Dio perché noi possiamo avere una vita divina ogni giorno della nostra esistenza e per questo la morte non arriverà a toccarci certo noi col nostro corpo moriremo ma siamo chiamati a vivere nell'eternità a vivere in Eterno lo scrittore russo Dostoievski diceva se esiste Dio io sono immortale ricordiamocelo sempre fratelli e sorelle e poi la mano il richiamo alla mano di Dio quella mano con cui Dio ci ha creato quella mano con cui Dio ha liberato il popolo di Israele e libera anche ciascuno di noi quella mano su cui Dio ci ha disegnato secondo le parole del profeta Isaia quella mano su cui è scritto il nostro nome come un tatuaggio intelebile per sempre su quella mano noi possiamo dormire tranquilli lo diciamo sono nelle mani di Dio dobbiamo anche crederci e allora questa domenica non sarà semplicemente perché ce lo dice il calendario la domenica del pastore bello del buon pastore sarà la domenica in cui noi comprendendo la rivelazione del Signore anche in questo breve Vangelo che come un flash ha illuminato la nostra vita noi comprendendo il messaggio del Signore possiamo seguirlo sulla strada della vita e sulla strada dell'amore e possiamo diventarne annunciatori di un pastore così buono di un pastore così bello affinché l'umanità intera possa conoscere le strade della vita e le strade dell'amore